idrossido o ancora anidride. A questo nome poi deve seguire un aggettivo specifico per ogni composto, tipo carbonico, se contiene carbonio, o fosforoso, se invece è presente il fosforo. Per evitare però delle ambiguità possibili nei composti che hanno stessi elementi ma composizione diversa, beh, allora si modificano i suffissi. E infatti, approfondisci un po' questa parte, spiegaci meglio i diversi significati dei suffissi in relazione a composizioni diverse. Quali sono le differenze? Qualche esempio semplicissimo. Si usa oso o ito come suffisso per il composto che contiene meno atomi di ossigeno. Ad esempio, un composto dello zolfo è acido solforoso o il suo sale solfito di sodio. Mentre invece si usano ico e ato quando il numero di atomi di ossigeno è maggiore. Ancora, sempre per lo stesso elemento, acido solforico e solfato di sodio. Sono poche semplici regole alla fine, ma che davvero hanno aiutato moltissimo la chimica a dotarsi di un linguaggio universale, comprensibile a tutti e soprattutto indipendente dalle singole lingue di ogni paese. In questo caso ci si serve della linguistica, ma più precisamente della morfologia, per creare parole derivate tramite suffissazione. Questo processo, a cui noi non badiamo in qualità di parlanti nativi, è in realtà molto comune. Ma ne abbiamo già ampiamente parlato nella terza puntata della nostra prima stagione. Perché non andate a riascoltarla e vi rinfrescherete la memoria? Dobbiamo fare rifornimento adesso, quindi il nostro viaggio per il momento termina qui. Alessio e Fabrizio resteranno con noi a bordo del vascello e ci accompagneranno anche nella prossima tappa, nella quale introdurremo lo stato attuale del linguaggio scientifico e com'è cambiato rispetto all'antichità. Quindi restate con noi a bordo di SRL, viaggeremo di nuovo insieme domenica prossima. E ricordate che, come nella scienza, anche nella linguistica, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Alla prossima! Alla prossima!